Allora, la password per accedere al sistema è admin password vuota, quindi login admin password vuota. Adesso andiamo a vedere come sono configurate le interfacce show system interface e la port 1 è configurata con indirizzi IP 192.168.299 come possiamo leggere qua sopra. Per cui quello che adesso noi dobbiamo fare è accedere tramite un altro sistema, in questo caso abbiamo Windows 7 che è connesso alla rete custom vmnet 7 che è poi quella che abbiamo definito anche sul FortiGate come possiamo osservare network adapter vmnet 7.6.4, quindi la 7 è quella che per noi adesso sarà l'interfaccia di management, di gestione del firewall per cui andiamo su Windows 7, apriamo un browser e accediamo tramite web interface http due punti slash slash 192.168.299 e qui ci compare la schermata di login, come abbiamo visto prima credenziali admin password vuota, login e adesso qui siamo sulla schermata iniziale del firewall, qui ci viene un messaggio che ci avverte che siamo in evaluation license 14 giorni until expiration, ok remain later e qui possiamo fare tutta una serie di operazioni abbiamo tutta la parte riassuntiva su quello che sta succedendo sul firewall, quindi quali sono le licenze abilitate in questo caso ovviamente nessuna perché non possiamo aggiornare in quanto stiamo utilizzando una versione di prova poi abbiamo qui una panoramica in security features, una panoramica di ciò che è abilitato ovvero per dire l'antivirus abilitato, la funzionalità di DLP, di data loss prevention non è abilitata l'email filter non è abilitato, questo ritornando al discorso che facevo nei precedenti video è per farvi capire quante sono le funzionalità avanzate del firewall può fare un sacco di cose, filtraggio web, vulnerability scan, intrusion protection e se noi andiamo su security profile anzi andiamo su system config feature quindi andiamo su system config feature possiamo vedere in tutta la loro completezza quali sono le funzionalità che possiamo abilitare o disabilitare per cui se vogliamo ad esempio utilizzare quello che viene chiamato van optimization ovvero avere questa funzionalità viene utilizzata quando abbiamo due link internet ovvero due connessioni internet e vogliamo fare bilanciamento tra queste per esempio nel caso una non funzionasse correttamente la vogliamo abilitare clicchiamo su on clicchiamo su apply e nel menu in questo menu appare la voce van optimization e qui possiamo decidere come gestire questa funzionalità se poi ci accorgessimo successivamente che non la utilizziamo più possiamo andare su feature e possiamo quindi disabilitarla e quindi qui la voce sparirà una volta che clicco su apply sparirà la voce dal menu se invece ad esempio vogliamo utilizzare il data loss prevention l'abilitiamo e qui nel menu avremo una voce da qualche parte dobbiamo cercarla relativa al data loss prevention oppure se vogliamo utilizzare la funzionalità di proxy esplicito del firewall clicchiamo qui e qui da qualche parte ci sarà la funzionalità non è detto che sia qui nel menu principale ma magari dobbiamo cercarla all'interno delle varie voci quindi dobbiamo cercarla ma sicuramente sarà presente ecco qui possiamo vedere quella di data loss prevention che abbiamo appena aggiunto tornando all'interfaccia del firewall quindi in network interfaces qui possiamo vedere le tre interfacce che noi abilitiamo di cui la porta 1 che è quella a cui noi ci siamo connessi in questo momento la 299 come accesso abbiamo solo l'http perché appunto abbiamo deciso di mettere solo l'http poi abbiamo la porta 2 che ancora non ha alcun indirizzo configurato e la porta 3 a questo punto quello che noi possiamo fare giusto come dimostrazione è configurare l'indirizzo ip per la porta 2 per cui andiamo qui su addressing mode manual e stabiliamo l'indirizzo per dire 192.168 anzi andiamo a vedere nella macchina virtuale che indirizzo avevamo dato a questa rete per cui FortiGate settings e qui abbiamo il 7 che è la 192.168.2 eccetera e abbiamo la 6 la seconda è la 6 la 6 andiamo su edit virtual network editor vediamo a cosa corrisponde la 6 corrisponde alla 4.4.0 per cui mettiamo un indirizzo su questa rete quindi andiamo ritorniamo sull'interfaccia del firewall e supponiamo che questa sia la 4.4.1 subnet mask supponiamo subnettiamolo con una 2.5.5 una 2.5.5 0 abilitiamo l'https il ping l'http ssh non vogliamo la funzionalità di hcp server security mode non utilizziamo captive portal queste comunque sono tutte funzionalità avanzate che al momento non ci interessano clicchiamo con ok e qui come possiamo osservare è stato messo è stato messo l'indirizzo su questa su questa rete quindi quello che adesso possiamo fare è utilizzare un'altra macchina windows ad esempio quest'altro windows impostiamo l'adattatore di rete sulla vmnet 6 che è quella relativa alla rete 4.4.4.4.0 clicchiamo con ok e avviamo questa macchina virtuale quindi adesso quello che noi possiamo fare è simulare un certo filtraggio di traffico tra queste reti quindi tra la rete 192.168.2.99 e la 4.4.1 quindi sulla 192.168.2.99 ci siamo già noi con questo windows 7 ovvero qui se facciamo un ipconfig vediamo da essere per l'appunto sulla rete 2 sulla rete 192.168.2.0 ovvero nello specifico il 2.10 adesso aspettiamo che si avvia anche quest'altro windows qui mettiamo le credenziali d'accesso qui mi avverte che è scaduto il periodo di prova ok e qui dobbiamo quindi assegnare un indirizzo che sta sulla rete 4.4.4.0 quindi adesso vediamo con un cmd qual è l'indirizzo configurato qui è 1.6.9 ovvero l'indirizzo interno di windows quindi non è configurato alcun indirizzo correttamente proprietà no ipv4 e qui mettiamo un indirizzo 4.4.4 ad esempio 10 2.5.5 2.5.5 2.5.5.0 a questo punto dal momento che noi sull'interfaccia abbiamo abilitato anche il ping come possiamo rivedere andiamo qua sulla porta 2 che è la 4.4.1 abbiamo abilitato il ping se io pingo quindi dal computer windows 7 pingo il 4.4.4 il 4.4.1 il ping avrà esito positivo il 5.4.1